1995, febbraio inoltrato, irrompono a Generazione X e rubano ad Ambra un po' d'affetto. Questa è la strada di indice, buon compagni, sarò il tuo buon compagni, Ambra ti amo. Un bacio, alziamo l'indice, un bacio qua. Abbiamo alzato l'indice d'ascolto ragazzi! Un bacio! Un bacio per Ambra, sarebbe buon compagni! Grazie, puoi tornare a posto. Niente, succede proprio come succede a Sanremo, è una sorta di figlio di cavallo pasto, non so cosa potrebbe essere.